Sono stata soprannominata in tanti modi, ambientalista, regista, attivista, delinquente, ma non ho mai preso sul serio questi nomignoli. L'educazione impartita dalla mia famiglia mi ha reso la persona che sono oggi. E per famiglia intendo i squali. Fin da piccola ero ossessionata dalla barriera Coralina. Sono cresciuta con lei. Ricordo banchi di pesci che oscuravano il sole. Coralli che spuntavano dal nulla. E ricordo gli squali. Adoro gli squali. Non ho mai avuto paura. E rischierei la vita per loro. La mia infanzia è stata molto diversa da quella vissuta dalla maggior parte dei bambini. Ho visto dare la caccia alla mia famiglia. Sono stata testimone del suo sterminio nella barriera Coralina. Quando sarò più grande, vorrò vedere quel posto pullulare di squali. La mia missione è fare qualsiasi cosa sia il mio potere per proteggerli. In realtà, ho già iniziato. La mia missione è stata molto diversa.